TG7 Mobile News Il 22,6% nel nord-ovest, il 19,3% nel nord-est, il 16,9% al centro e il restante 16,1% nelle isole. L'area in cui l'incremento rispetto al censimento del 2001 è stata più consistente risultata essere il centro, seguita a paritati punteggio dal nord-ovest e nord-est, poi seguono le isole e infine il sud Italia. E' quanto emerge dalla lettura di Tecnoborsa del 15esimo censimento generale della popolazione e delle abitazioni dell'Istat del 2011 a cura del centro studi sull'economia immobiliare. Per quanto concerne la distribuzione della popolazione residente in edifici a uso abitativo rispetto al numero di interni è emerso che il 18,8% risiede in fabbricati con un solo interno, il 16,6% in quelli con due interni, il 34,4% in quelli che hanno fra 3 e 10 interni, il restante 30,1% in quelli con più di 10 interni. Quanto all'epoca di costruzione in Italia quasi il 70% della popolazione risiede in edifici che hanno più di 30 anni. I dati dei primi tre mesi del 2015 evidenziano la forte ripresa del mercato dei finanziamenti alle famiglie per l'acquisto delle abitazioni. Dal campione ABI composto da 78 banche che rappresenta circa l'80% della totalità del mercato bancario italiano emerge che nel trimestre gennaio-marzo 2015 la montare delle erogazioni di nuovi mutui è stato pari a 7,897 miliardi di euro rispetto ai 5,250 miliardi dello stesso periodo del 2014. L'incremento su base anno è quindi del 50,4%. I mutui a tasso variabile rappresentano nei primi tre mesi del 2015 il 66,7% delle nuove erogazioni complessive. Tuttavia sono insensibile incremento i mutui a tasso fisso che hanno raggiunto a marzo 2015 quasi il 35% delle nuove erogazioni. erano quasi il 18% 12 mesi prima. E adesso cambiamo decisamente argomento. È il caso di dire che l'informazione ancora riesce a dar fastidio ai mafiosi. L'ultimo giornalista a finire sotto scorta è stato Sandro Ruoto, lo colonna portante di servizio pubblico. Vediamo il servizio. Forse solo l'informazione riesce ancora a dar fastidio ai mafiosi e l'unica che ancora li tiene sulla corda, li nervosisce. E così si agitano i boss anche quando sono detenuti e sottoposti al 41 bis. Questa volta andare su tutte le furie è stato il boss Michele Zagaria, che ha puntato il dito contro Sandro Ruoto, lo giornalista di grande esperienza, colonna portante di servizio pubblico al fianco di Michele Santoro. A Zagaria sembra non essere andata giù un'inchiesta giornalistica che Sandro ha mandato in onda nelle scorse settimane sulla terra di fuochi, dove il boss ha messo le mani e fatto illegalmente tanti affari speculando sulla pelle dei campani. Dopo questa lunga inchiesta giornalistica, i magistrati della procura antimafia di Napoli hanno registrato le minacce di Zagaria contro Ruotolo. Per questo motivo investigatori e magistrati hanno subito ravvisato un grave pericolo assicurando subito al giornalista un servizio di scorta. Ma Ruotolo è solo l'ultimo dei giornalisti d'inchiesta. Ad essere finito sotto scorta, Lirio Abate, da anni sotto scorta con le sue inchieste su mafia capitale, ha scoperchiato un sistema criminale in grado di far tremare i palazzi della politica romana. Nel suo ultimo libro, Il re di Roma, Abate racconta con documenti inediti quel sistema criminale. Lo scenario è quello che mette insieme la politica, la criminalità, le emergenze, le emergenze immigrate, le emergenze abitazioni, tutto quello che si può fare o fa business dove i nuovi clan mettono le mani. E viene fuori una nuova mafia, una mafia a Roma, gestita da un ex estremista di destra che si chiama Massimo Carminati, dove tutti a Roma sapevano, conoscevano il valore e la potenza che aveva. L'ho prima raccontata sull'Espresso, poi è diventata un'inchiesta giudiziaria e adesso tutti si interrogano a Roma se c'è o non c'è la mafia. Dentro trovi i politici di destra e di sinistra, ma trovi soprattutto l'uomo nero, cioè Massimo Carminati, che arriva da un ex estremista di destra, che fa affari, si mette in società con uno che arriva invece dalla sinistra, cioè dal partito comunista, arriva dalle cooperative, è il leader delle cooperative a Roma, che si chiama Salvatore Buzzi e come dicono nelle intercettazioni, quando di mezzo ci sono gli affari, il colore politico non conta. C'è un intreccio di affari, di politica, di criminalità che se loro si sono scomodati a minacciarti, a cercarti, è perché comunque gli hai creato dei problemi. E se hai creato un problema e se loro si sono agitati, non sono più tranquilli come prima. Per cui vale la pena non farli stare tranquilli. Decine di migliaia di persone sono scese in piazza nei giorni scorsi in tutta Italia per protestare contro la riforma della scuola voluta dal governo Renzi, uno sciopero generale che alcuni sindacalisti hanno definito il più grande di sempre. L'adesione, secondo i sindacati, ha sfiorato quasi l'80%. Al fianco dei docenti, principali protagonisti della protesta, anche tanti studenti. 25.000 a Roma, 20.000 a Milano, 15.000 a Bari, 5.000 a Cagliari, 10.000 a Palermo e 5.000 a Catania. Cortei di studenti e insegnanti anche a Napoli sono partiti da Piazza Mancini per ribadire loro no al decreto legge Buona Scuola di Renzi. I manifestanti hanno sfilato a colpi di slogan lungo Corso Umberto, rallentando il traffico cittadino e inscenando un flash mob in Piazza Dante con drappi neri e ceri rossi tra le mani. Nonostante le tensioni, il Premier Renzi continua a difendere il decreto. La scuola è una grande occasione, deve creare cittadini, non solo lavoratori, ma quando abbiamo dei numeri come quelli che abbiamo, con i dati sulla disoccupazione, vuol dire che il sistema di formazione va cambiato, ha detto il Premier. Ci sono tante persone che oggi protestano, noi ascoltiamo perché è giusto ascoltare, parlare, ma siamo il primo governo che investe 3 miliardi sulla scuola. E questa era l'ultima notizia, l'informazione di TG7 e Mobile News termina qui, io vi do appuntamento alla prossima edizione.